Salve, io sono Dario, benvenuti su DocuClassic Italia e alle piste di Bormio. La clip di oggi è tratta dal documentario Un secolo di esplorazioni, prodotto nel 1988 in occasione del primo centenario di National Geographic. Ci vediamo dopo! Alla rivista incominciarono a essere affiancati documentari a colori con il marchio Society, il primo dei quali seguì la spedizione americana all'Everest guidata da Norman D'Irenford. La spedizione comprendeva 19 scalatori americani e 32 scerpa nepalesi, la cui impresa sarebbe stata in seguito vissuta in televisione da 10 milioni di spettatori. La voce di Orson Welles commentò il film ufficiale della spedizione. La mattina del primo maggio la vetta ribolle nel suo pennacchio di neve. Ai campi inferiori erano certi che quel giorno non si sarebbe tentato l'ultimo balzo, ma avevano torto. Big Jim e Gombu decidono di partire e passo dopo passo scalano i bastioni della cresta sud-est. Per un po' Norman D'Irenford e Hank Dawa li seguono, ma il freddo è troppo intenso, il vento troppo forte. Filmare è del tutto impossibile. Alla fine Norman D'Irenford e Hank Dawa tornano indietro. L'accordata di Jim e Gombu procede da sola. Finalmente... Eccoli, sul tetto del mondo. Jim Whittaker e Nowan Gombu. A luna del pomeriggio del primo maggio, Whittaker ha piantato la bandiera americana e quella della National Geographic Society sulla vetta. Queste sono le prime sequenze mai filmate sulla cima dell'Everest. Sotto di loro li attende una discesa interminabile, perché una cosa è salire sull'Everest, un'altra è scenderne vivi. Furono soltanto sei gli uomini della spedizione che raggiunsero la cima, ma nell'ascesa uno scalatore perse la vita e durante il ritorno altri tre furono colpiti da congelamento e dovettero essere portati in spalla dagli Sherpa. L'inviato della National Geographic Society, Barry Bishop, che aveva raggiunto la vetta, persa in seguito le dita dei piedi. Sui fianchi della montagna, che gli Sherpa chiamano Ciomo Lunga, la dea madre della terra, si chiudeva così un altro capitolo dell'era romantica dell'avventura in alta quota. Il documentario originale di questa eroica impresa è reperibile qui, su DVD National Geographic sull'Everest, distribuito da documentaria By Cine Hollywood. Per acquistarlo, il link è reperibile nella descrizione in basso a questo video. Per vedere altre grandi clip, iscrivetevi a DocuClassic Italia e premete sul tasto della campanellina in basso per rimanere sempre aggiornati sulle pubblicazioni dei nuovi video. A presto! Grazie!